Hai appena installato la piattaforma WordPress sul tuo spazio di hosting e non sai come puoi andare a creare una pagina di blog che sia separata dall'home page del tuo sito web? Io sono Roberto Marchesini di wpvincente.it e in questo video ti vado a spiegare proprio come puoi fare questo in modo molto ma molto semplice grazie a delle impostazioni di base che ti mette a disposizione la piattaforma WordPress. Passiamo subito alla parte pratica che vediamo come fare. Come vedi ora mi trovo sull'home page del mio sito web perché questa installazione di WordPress l'ho installata sotto la cartella Avada. Infatti se vado a cliccare sul logo del mio sito vedrai che andrà a finire sempre su questa pagina. Ecco qui come vedi sono sempre sulla stessa pagina. Ora io non voglio che gli articoli compaiano sull'home page del mio sito ma bensì voglio che gli articoli vadano a finire sulle pagine a blog e come home page andrò ad inserire una pagina che ho creato in precedenza. Ora come puoi fare questo? Beh è molto semplice vai sul tuo pannello di amministrazione di WordPress vai su impostazioni lettura e qui come vedi c'è scritto la tua home page mostra e qui è selezionato gli ultimi articoli. Ora noi andiamo a mettere la spunta qui come home page vado a selezionare la pagina che ho creato in precedenza che è la pagina home e come pagina degli articoli vado a selezionare la pagina blog. E tra parentesi se ora non vado a salvare le impostazioni e torno sul mio sito se vado a cliccare sulla pagina blog che ho creato prima come vedi qui non si visualizza niente. Ora torniamo sempre sulle impostazioni e andiamo a salvare le modifiche. Ottimo ora le impostazioni sono state salvate. Ora se torniamo sulla pagina di blog e andiamo a ricaricare la pagina come vedi ecco che su questa pagina ora mi vengono mostrati tutti gli articoli che ho scritto all'interno del mio sito il che è ottimo è esattamente il risultato che volevo ottenere. Ora se vado a cliccare sul logo del mio sito e vado effettivamente sull'home page ecco che come vedi come pagina principale è stata impostata l'home page che mi ero creato in precedenza. Bene siamo arrivati alla fine di questo video e se sei interessato alla piattaforma WordPress cosa mi dici di scaricare il mio manuale completo a WordPress che ti guida con la creazione e gestione del tuo sito web con tanto di immagini? Puoi scaricare questo manuale andando all'indirizzo wpvincente.it slash manuale penso proprio che ci sarà di grande aiuto. Con questo io ti saluto e mi raccomando di iscriverti al mio canale di YouTube per non perderti i prossimi video. Grazie a tutti.